buonasera e benvenuti a tu per tu con l'economia eh questo è il primo di una serie di incontri che faremo ogni due settimane sul canale facebook della casa editrice in cui affronteremo ogni volta un tema diverso sempre con una prospettiva economica e con un ospite diverso ehm ma diciamo con Enzo Cipolletta che farà come dire da conduttore di questo ragionamento sull'economia l'economia è un ambito centrale da sempre della nostra vita individuale e collettiva ma la crisi eh che stiamo attraversando la crisi indotta dalla pandemia dal coronavirus e dai provvedimenti che eh sì in tutto il mondo si prendono per affrontarlo rende l'economia ancor più fondamentale eh l'economia nel senso delle condizioni dell'economia ma anche delle scelte di politica economica locale nazionali internazionali che incidono sulla nostra vita ci viene detto continuamente il mondo è cambiato ehm anche quando avremmo sconfitto il virus eh non tornerà quello di prima non torneremo alla vita di prima eh sì però il problema è eh caro Enzo il problema è capire se la vita a cui torneremo sarà peggiore o migliore di per sé dire non torneremo non è che ci rassicura e il problema è che questo dipenderà dall'economia dipenderà da quale economia eh ci sarà quando speriamo tra poco anche in virtù del vaccino eh la situazione diciamo eh cambierà e il problema è che questo dipende anche da noi se sarà peggio o meglio dipenderà appena in parte dalle scelte che faremo da la nostra consapevolezza dell'economia quanto saremo informati consapevoli ecco perché ci sembrava molto importante fare questo questi incontri a tu per tu con l'economia vuol dire affrontare l'economia in maniera semplice diretta immediata comprensibile per tutti perché tutti siano consapevoli della posta in gioco e possono dire la sua non parleremo dunque in maniera accademica eh non in maniera astratta seguiremo per quanto è possibile gli avvenimenti dell'attualità ne sceglieremo alcuni e insomma da tutto quello che ho detto risulta chiaro almeno a chi lo conosce perché sarà Enzo Cipolletta diciamo il nostro la nostra guida perché eh Enzo Cipolletta Innocenzo Cipolletta è stato in questi anni una delle persone che il nostro paese ha fatto come dire l'esperienza più ampia più diversificata eh è stato per molto tempo in Confindustria prima l'ufficio studi proveniva da studi diciamo di economia di statistica applicata economia applicata poi è stato direttore generale di Confindustria per molti anni e poi ha fatto esperienze importanti in varie grandi aziende è stato presidente della Marzotto del Sole 24 ore Ferrovia dello Stato oggi è presidente di Assonime l'associazione che raggruppa le società per azioni che studiano proprio l'economia italiana devo dire con molto piacere insieme a Innocenzo Cipolletta abbiamo dato il la iniziale al festival di economia di Trento nel 2006 Enzo all'epoca era presidente anche dell'università di Trento ne andammo a parlare con la loro presidente dell'AI e poi chiedemmo insieme a Tito Boeri che è stato la grande parte l'anima del festival in questi anni di esserne direttore e anche lì come qui l'idea è quella di raccontare in monodiverso l'economia ecco in ognuna dei nostri incontri come dicevo prima ci occuperemo alcune vicende e questioni di attualità ma anche approfondiremo un aspetto importante rilevante non solo con un economista ma anche persone che vengono altre discipline tu me lo dicevi l'altro giorno Enzo che questa l'economia non è fatta soltanto di economia cioè cifre valori e quant'altro ma è fatto di tante altre cose dai comportamenti umani dalla politica da quella che è la storia che condiziona quindi è importante anche ricordare che quando si parla di problemi economici poi spesso coinvolgiamo anche persone e personalità e scienze che sono diverse dall'economia la sociologia l'educazione ma anche perché no la medicina e quant'altro come purtroppo stiamo vedendo in questo tempo e quindi troverete in questa piccola rubrica appunto quindicinale anche ospiti che portano altri sguardi altre competenze tra poco ci raggiungerà per il primo di questi incontri Linda Laura Sabbadini che molti conoscono che è direttora dell'Istat e che parlerà del ruolo delle donne che è il primo tema che abbiamo scelto di approfondire oggi un tema di cui si parla molto ma in cui i cambiamenti sono ancora pochi ed è certamente questa è una delle cose che denuncia spesso Linda Laura Sabbadini avremo alla fine anche spazio spero per alcune domande interventi quindi lo dico subito chi di voi vorrà ci sta seguendo porci delle domande le questioni ci farà molto piacere vedo che alcuni stanno già salutando e sono contento che ci siano già parecchie persone in collegamento e allora cominciamo subito il tema che abbiamo scelto per la nostra prima chiacchierata se volete è molto evidente perché ed è il tema dell'Europa il tema del recovery fund o recovery plan ma in realtà sarebbe più corretto chiamarlo next generation EU un titolo dato dalla commissione che evidenza che dietro c'è una questione di patto tra generazioni che riguarda oggi ma anche il futuro e questo è un tema molto importante vorrei chiedere ad Enzo prima di tutto di chiarirci di cosa stiamo parlando perché noi abbiamo affrontato la pandemia in una situazione in cui l'Europa sembrava molto divisa ognuno andava per conto suo c'era uno sguardo molto introiettato sul come affrontarla e quando però a un certo punto siamo arrivati quasi all'estate finalmente siamo riusciti, si è riusciti a trovare un'unità molto forte dell'Europa la commissione europea ha chiesto ai mercati un prestito molto rilevante 750 miliardi chiederà ecco allora adesso cominci subito a spiegarci perché di questi soldi una parte significativa più di 200 miliardi dovrebbe arrivare all'Italia ecco ci spieghi prima di tutto questa cifra che arriverà all'Italia quando arriverà e come la dovremo restituire perché una delle cose di cui parliamo sempre sono le grandi potenzialità ci arriveremo ma una prima preoccupazione è diciamo come poi la restituiremo e che cos'è appunto ce lo spieghi si la restituiremo beh innanzitutto è vero che l'Europa ha cambiato atteggiamento in maniera consistente dopo questa crisi perché fino alla crisi l'Europa era costruita da 27 paesi con l'obiettivo che ciascun paese facesse i compiti a casa propria e diventasse più sano più equilibrato più competitivo l'idea era che la somma di paesi sani facesse un'unione sana che ha diciamo sembra la pallistiano però bisogna anche ricordarci che spesso mettendo insieme diversi paesi le divergenze che esistono tra i paesi invece di ridursi aumentano lo sappiamo noi italiani che avendo costruito l'Italia ci siamo poi trovati a una divergenza fra nord e sud che non è stata la causa dell'Unione dell'Italia ma sicuramente si è aggravata con l'Unione dell'Italia e così sta avvenendo in Europa non si riesce a mettere insieme paesi diversi e sperare che diventino tutti uguali questa situazione è stata aggravata da questa pandemia perché la pandemia ci ha colpito tutti ma ovviamente abbiamo reagito tutti in maniera diversa perché chi era indebitato come l'Italia aveva meno capacità di rispondere e chi aveva invece parecchie risorse poteva rispondere meglio allora l'Europa finalmente ha fatto un capovolgimento di posizione e ha deciso che si sarebbe organizzato una somma consistente di 750 miliardi che sarebbe stata suddivisa ai diversi paesi non già in base alla loro popolazione o quello che loro contribuiscono all'Europa bensì sulla base delle esigenze effettive ed è questo il motivo per cui l'Italia è uno dei principali beneficiari di questo fondo perché noi siamo quelli che abbiamo maggiori esigenze lo diciamo continuamente cresciamo meno degli altri abbiamo maggiore disoccupazione abbiamo dei ritardi molto forti a noi arriveranno 209 miliardi di questi 209 miliardi 85 grosso modo sono quelli che vengono definiti grant la parola più brutta italiana è sussisi cioè non li dobbiamo restituire noi gli altri invece sono prestiti prestiti agevolati nel senso che vengono fatti a tassi di interesse molto bassi e soprattutto prestiti che dovranno essere restituiti molto in là nel tempo questo piano presuppone che si impieghino questi soldi entro il 2026 e si cominciano a restituire non prima del 2028 quindi abbiamo molto tempo però come tu stesso hai ricordato si chiama un piano per la nuova generazione proprio perché con questi soldi non è che dobbiamo rimborsare coloro che oggi vivono e hanno perso i soldi questo viene fatto dagli stati nazionali che danno sussidi e prestiti ma dobbiamo costruire il nostro paese in maniera che sia più resistente alle crisi difatti il piano si chiama recovery and resilience che vuol dire recupero di quello che avevamo prima ma anche il robustimento il robustimento è perché questa crisi che abbiamo affrontato non è stata l'ultima non è stata unica e non sarà l'ultima negli ultimi 20 anni noi abbiamo avuto tre grandi crisi sistemiche quella del terrorismo del 2001 quella della finanza globale del 2008 e oggi quella della pandemia se facciamo un calcolo praticamente una crisi ogni 6-7 anni adesso non voglio dire che nel 2026-2027 avremo una nuova crisi però non possiamo escludere che questo avvenga problemi climatici problemi di povertà mondiale problemi di grandi immigrazioni perché no purtroppo anche problemi di guerre possono sempre intervenire quello che abbiamo capito è che un paese se è robusto resiste alla crisi e quindi noi dobbiamo irrobustirci questa è la funzione di questo nuovo piano ecco ci arriviamo subito però una precisazione tu hai detto i sussidi non li dobbiamo restituire l'Europa sì però e quindi noi pro quota diciamo come contribuenti europei siamo assolutamente anche quelli vanno restituiti dunque questi soldi devono ancora essere decisi come verranno restituiti allora una parte di questi soldi probabilmente la parte relativa a sussidi l'Europa spera di poter costituire delle tasse europee la parola sembra brutta mettere delle tasse però sono le tasse che riguardano l'obiettivo della difesa dell'ambiente si parla molto della carbon tax cioè di tassare quei prodotti che hanno nuociano troppo all'ambiente in maniera tale che piano piano la gente si converte a consumare e utilizzare prodotti che consumano meno i proventi di questa tassa potrebbero essere una tassa che viene in qualche maniera utilizzata proprio per rimborsare una parte di questo prestito poi gli altri prestiti dovranno essere rimborsati dai paesi stessi qual è il motivo per cui non c'è da preoccuparsi non c'è da preoccuparsi se utilizziamo bene i 200 e passa miliardi che ci arrivano perché se li utilizziamo bene cresce l'economia se cresce l'economia diminuisce il debito diminuisce il debito perché il debito non viene mai considerato in valore assoluto cioè quanti miliardi devo restituire ma viene considerato in rapporto alla capacità di reddito che c'è a ciascun paese se noi facciamo crescere la capacità di reddito evidentemente si riduce il peso del debito e i mercati non ce lo chiedono indietro anzi sono contenti di finanziarlo perché loro ricavano degli interessi e quindi il debito può essere rinnovato continuamente teniamo presente che il Giappone oggi ha un debito che è il doppio di quello italiano ma non ha un grosso problema perché i mercati glielo finanziano in continuazione quindi il debito va rimborsato però se il paese è forte può trovare sempre qualcuno che gli presta soldi e può andare avanti tranquillamente però non voglio fare l'uccello del maragurio ma la crescita è una cosa che fa fatica negli ultimi anni anche prima del covid non tutti i paesi crescevano in paesi occidentali crescevano relativamente meno poco e il dubbio è non è che questa cosa questo debito che poi come tu hai detto si restituisce il 38 diventa un ennesimo scarico di una generazione sull'altra a proposito di Next Generation Union non c'è la preoccupazione che poi ne parleremo anche con Linda Laura Sabadini delle diseguaglianze questa diseguaglianza generazionale diventi più forte perché adesso spendiamo e ci penseranno i nostri figli e nipoti a pagare i debiti ma diciamo le preoccupazioni ci sono tutte quante è evidente che un'economia di debito fa nascere nuove preoccupazioni però dobbiamo anche ricordarci che questi debiti sono diciamo impieghi finanziari di altri paesi che hanno ricchezze ma degli stessi italiani noi abbiamo del risparmio elevatissimo la ricchezza degli italiani è 8 mila miliardi di euro che significa quattro volte quello che il paese produce una volta all'anno questa ricchezza deve essere investita e può essere investita in attività diciamo economica ma può essere investita anche soprattutto in debito che dà degli interessi e questa è la funzione del debito gli Stati Uniti americani hanno un debito oggi che è vicino a quello che noi avevamo l'anno passato e non si preoccupano questo vuol dire non è che il debito non è preoccupante è preoccupante se il paese smette di crescere se il paese continua a crescere il debito si riesce a rinnovare ma scusami faccio una breve parentesi quindi tu non sei di quelli che è convinto che bisogna smettere di crescere per non inquinare e distruggere l'ambiente cioè si può crescere e al tempo stesso andare su una strada diciamo ma nell'esperienza passata ogni volta che noi abbiamo affrontato un problema nuovo siamo cresciuti di più oggi proteggere l'ambiente significa riconvertire tutto l'apparato produttivo per convertire il nostro sistema di consumi e questo significa crescere non si cresce in un paese normale perché uno compra un po' di più delle stesse cose si cresce quando uno cambia le cose da comprare perché c'è un effetto di sostituzione faccio un esempio banale ormai gli italiani hanno magari a casa loro abbastanza pullover le scarpe o quello che sia potremmo vivere con quello che ci abbiamo tranquillamente quando è che cresciamo quando rinnoviamo questo bagaglio ecco la lotta contro il degrado ambientale ci fa cambiare moltissime delle nostre acquisti e questo significa che rinnoviamo completamente tutto il parco dei nostri beni e questo fa crescere il paese quindi la lotta per l'ambiente è un elemento di crescita ormai non è un elemento di riduzione quelli che pensano che la lotta l'ambiente sia chiudersi dentro casa non consumare di meno spegnere la luce secondo me sbagliano hanno un obiettivo sbagliato perché non si combatte l'ambiente in quella maniera l'ambiente lo si combatte con l'innovazione le tecnologie e con le nuove produzioni sei come sempre ottimista questo lo dico per i pochi che non lo sappiano una delle caratteristiche di Gioacenzo Cipolletta che essendo un uomo come si dice con i piedi ben piantati per terra ma rimane sempre con uno sguardo ottimista è questo che appena detto ma io naturalmente mi auguro che tu abbia ragione come credo tu entriamo nel merito del modo in cui si utilizzano questi soldi allora se non non ho capito male la commissione europea ha chiesto a ciascuno dei paesi di organizzare un progetto un piano per l'utilizzo che poi sarà mandato e portato in Europa nei prossimi mesi il piano nazionale che tu hai citato prima di ripresa e resilienza è strutturato intorno a sei missioni tra l'altro lo dico perché parleremo spesso di libri anche della casa editrice noi pubblicheremo a fine gennaio un libro di Mariana Mazzucato che si chiama Mission Oriented Economy una una economia orientata per missioni Mariana Mazzucato è un'economista diciamo italiana di origine ma poi inglese che si batte americana che si batte molto per questo orientamento per missioni le sei missioni di cui parla il piano sono digitalizzazione transizione ecologica mobilità sostenibile istruzione ricerca parità di genere ne parleremo appunto con Linda Laura Sabatini tra pochi minuti coesione sociale sanità la proposta del governo che mi pare ha avuto molte critiche tra alcune critiche tra cui quella di Renzi è che ogni una di queste sei missioni se capisco bene dovrebbe avere un capo a capo un tecnico responsabile poi una cabina di regia con i ministri dell'economia dello sviluppo degli affari europei il Presidente del Consiglio ecco ti sembra un buon modo per organizzare come dire la spesa di questi fondi vedi un'alternativa la Sonime di cui sei Presidente mi pare che ha fatto anche una proposta cioè questo aspetto fondamentale per l'Italia perché siamo un paese in cui si fanno grandi riforme si investono anche cifre e poi per tutta una serie di problemi sappiamo che le difficoltà ci sono ne parleremo appunto anche con Linda Laura Sabatini che è di amministrazione ne capisce molto ma a te sembra che sia un buon sistema questo? Fammi dire che la polemica politica che c'è stata è veramente una polemica politica e questo ci riporta al fatto che l'economia si mischia con la politica il fatto che il governo abbia proposto una cabina di regia con un Presidente del Consiglio e due ministri ha di fatto scoperto un paio di partiti politici che non si sentono rappresentati in questa cabina di regia dobbiamo dire le cose come stanno per cui la protesta da parte degli esclusi è voi volete farvi il piano per conto nostro io credo che il governo cambierà probabilmente posizione non giudico questa proposta dal punto di vista politico ma la giudico dal punto di vista tecnico noi abbiamo delle amministrazioni che non godono di grande reputazione ma restano comunque delle solide amministrazioni con grosse competenze e siccome uno dei problemi nella realizzazione dei progetti è evitare quelli che in Italia si chiamano conflitti di competenza cioè io provo a fare una cosa arriva un altro che mi dice no guarda tu non la puoi fare perché prima devi chiedere il permesso a me ambiente il Ministero dell'ambiente lo può dire al Ministero delle Infrastrutture il Ministero degli Affari Sociali lo può dire a quello che dà i sussidi per far crescere le imprese e quant'altro noi abbiamo costruito come assonime una struttura un'architettura istituzionale che mantiene diciamo le competenze dei diversi Ministri e quindi abbiamo pensato alla cabina di regia che è fatta da i rappresentanti di tutti i Ministeri cioè ogni Ministero dovrebbe nominare un suo rappresentante che fa parte di questo gruppo e dare una delega a un solo Ministro noi avevamo individuato come Ministro quello dell'Europa perché è il Ministro Amendola che è il Ministro che si rapporta con la Commissione Europea perché come è stato detto come hai detto tu stesso questo piano noi lo dobbiamo fare con l'aiuto dell'Europa che ci dice cosa va bene e cosa va male e soprattutto sarà l'Europa a vidimarlo a dire va bene e quindi a questo punto è bene che sia il Ministro che ha il rapporto con l'Europa quello che ha la delega per questo questa era la rostratura che abbiamo detto però riconosco che anche questa struttura può essere criticata perché qualcuno dice ma l'amministrazione non è capace meglio un commissario come hanno presentato il governo io credo che con un po' di buona volontà bisognerebbe mettersi lì trovare la soluzione migliore e non restare a polemizzare troppo e poi ci vorrebbe soprattutto un dibattito pubblico qualificato forse in questa fase è particolarmente importante che sui media non si parli soltanto dell'ultima presa schermaglia di correnti ma si entri nel merito qui abbiamo già molte domande e questioni Gabriele Argnani scrive vorrei sapere fino a quanto si può crescere sacrificando gli altri e quanto la crescita può riguardare tutti Fabiano Bitonte dice se riusciamo a spendere non lo vedo più se riusciamo a spendere circa il 30% della moneta che l'Europa mette a disposizione come faremo a spendere in breve questa enorme massa di miliardi Nanà Cecchi dice la strada è verde punto esclamativo adesso non devi rispondere subito ma intanto li leggo Daniele Sai dice altresì è importante per il nostro Stato non indebitarsi eccessivamente sia come debito pubblico nazionale sia in termini di prospettica restituzione del prestito che sarà erogato Grecia Docet Giorgio Ariani scrive purtroppo la storia ci insegna che troppo spesso questi aiuti vengono utilizzati male quale sarebbe una buona strategia per far sì che erano utilizzati bene fammi dire una cosa innanzitutto cerchiamo di prendere con ottimismo questo piano perché il piano può essere discutibile però è meglio attuare un piano discutibile piuttosto che lacerarsi in discussioni di quello che manca o di quello che è sbagliato e non fare nulla perché se l'Italia riesce comunque a spendere 200 e passa miliardi per aggiustare alcune cose noi saremo sicuramente meglio chi ha detto che non dobbiamo indebitarci troppo ha ragione però ricordo che questo piano ha una astuzia al suo interno ha messo dentro alcune misure che l'Italia avrebbe sempre comunque adottato che sono le misure relative alla ristrutturazione degli edifici perché consumino meno energia e siano più resistenti ai terremoti oppure quelli per adeguare l'industria alle nuove tecnologie e li ha messi nel piano proprio perché in questa maniera si finanziano col debito europeo e non con debito italiano quindi si sostituisce debito italiano con debito europeo e questa è una maniera per evitare che domani di avere troppo debito Allora prima di passare a discutere con Linda Laura Sabatini un'ultima questione più generale di prospettiva tu credi che adesso non voglio fare la solita domanda dei talk show a boccia di vetro come si dice per il futuro però c'è un dato politico l'Europa ti sembra che con questo Recovery Fund con questo Next Generation Europe ha messo delle condizioni solide per un passo in avanti nell'integrazione cioè il fatto che poi dovremmo mettere delle tasse tu hai prima citato la tassa carbon tax c'è chi parli web tax di altre tasse fa sì che dovrà in qualche modo entrare in una politica di spesa comune e quindi allargando molto i confini rispetto alla sola politica monetaria e quindi un'unità anche politica importante ci sembra che possiamo essere ottimisti? La risposta è sì non possiamo essere ottimisti perché dipende moltissimo da come andrà proprio questo piano di recupero se tutti i paesi a cominciare dall'Italia utilizzeranno bene questi soldi e riusciremo ad avere un paese migliore è automatico che l'Europa considererà questo tipo di intervento come un intervento naturale strutturale verrà ripetuto e avremo una spesa europea allora invece fallissimo e dovessimo utilizzare male questi soldi è evidente che i paesi che sono contrari all'integrazione diranno avete visto non serve anzi torniamo indietro e quindi veramente è una scommessa che dobbiamo vincere bene adesso vediamo se altrettanto ottimista anche l'Inda Laura Sabbadini che saluto prego di collegarsi sei con noi buonasera buonasera ciao come stai bene grazie siamo molto contenti ti ringraziamo di aver accettato il nostro invito e ti volevo innanzitutto chiedere che ne pensavi delle cose che abbiamo detto banalmente se c'era qualcosa su cui allora dico l'ho già detto che tu sei direttora direttora dell'Istat e ti sei occupato da molti anni della questione in cui parleremo delle donne ma di tante altre questioni appunto tra cui anche i temi della pubblica amministrazione abbiamo trattato e te ne sei occupato diciamo all'interno dell'istituto ma anche all'esterno nel senso hai fatto parte di molte commissioni pubbliche importanti l'ultima delle quali è quella presieduta da Colau che si deve occupare proprio di come affrontare la crisi del covid e poi sei una editorialista importante scrivi spesso sia sulla stampa sia sulla repubblica e anche in libri se posso ricordarlo poi lo ricorderemo da ultimo in un libro in cui sono molto contento che tu abbia collaborato che si chiama Il mondo dopo la fine del mondo in cui affronti una serie di diseguaglianze quelle generazionali per esempio ma anche quelle delle donne allora prima di tutto prima di farti una domanda sullo specifico vuole sapere tra le cose che hai sentito c'è qualcosa su cui ti piacerebbe dire la tua che non sei d'accordo o vuoi aggiungere qualcosa dove ho sbagliato Sono ottimista con quello che ha detto che questo piano potrà fare la differenza ovviamente questo è il momento in cui bisogna sviluppare al massimo il dibattito perché c'è bisogno di dotarsi di una strategia adeguata stiamo parlando di una cifra di 200 miliardi che è una cifra enorme che potrebbe veramente essere la grande svolta del paese io sono assolutamente positiva però penso che ci debba essere un momento in cui si definiscono meglio gli obiettivi strategici che sono all'interno del next generation perché sia veramente un next generation cioè questo è la grande occasione del paese purtroppo a fronte di una situazione criticissima dovuta all'epidemia quindi ma la grande opportunità del paese è di fare un balzo allora dobbiamo essere coscienti di quali sono alcuni nodi strutturali fondamentali che devono essere aggrediti perché se non lo facciamo ora e non riusciamo a aggredire questi nodi difficilmente avremo un'altra occasione per poterlo fare quindi in tutto a proposito di nodi strutturali ti pongo subito la domanda sui nodi strutturali varie persone per esempio Rosanna Rampognani ci scrivono le amministrazioni regionali e nazionali hanno dimostrato di non essere capaci di amministrare i fondi strutturali basta fare i paragoni con altri paesi simili al nostro come la Spagna 50 miliardi per l'utio settennato come riusciremo a gestire 208 miliardi stessa cosa dice Anacechi il serio problema temo sia la burocrazia nefantiaca quindi a fronte di due persone ottimiste i nostri interlocutori sembrano essere più realisti di voi due ci dicono sì bellissimi progetti ma poi come facciamo con la qualità della nostra amministrazione tu che ne dici noi dobbiamo fare dobbiamo lavorare sui due piani da un lato dobbiamo aver chiara la strategia dall'altra dobbiamo essere coscienti che fa parte di questa strategia anche il dotarsi di una strategia di governanza a livello locale e territoriale sappiamo che questo è un nostro grandissimo limite e su questo però dobbiamo saperci lavorare e trovare una soluzione abbiamo utilizzato diciamo che durante tutta l'epidemia sono stati fatti decreti su decreti in cui per accelerare tutta una serie di misure che dovevano essere messe in atto bisognerà trovare il modo che quelle cose che sono state accelerate per la fase dell'epidemia in qualche modo possano essere vigenti anche nella fase di implementazione di questo piano cioè non possiamo non fare conti con questo dobbiamo dotare tutte le strutture territoriali di personale qualificato adeguato che sia in grado di gestire questa fase cioè è impossibile pensare che si possa gestire questa cosa solo a livello centrale cioè è giusto quello che pongono chi ci segue cioè è giustissimo bisogna darsi una strategia su come a livello territoriale si affronta questa questione e non può che affrontarsi con un forte potenziamento di professionalità adeguate anche a livello territoriale e locale giro la questione anche Enzo in più Enzo c'è una questione che mi pare molto giusta che è immateriale ma importante Carmen Graziano risponde ma come la mettiamo con la sfiducia dei cittadini nello Stato in Svezia lo Stato riscuota la fiducia dei cittadini da noi pensiamo alla questione dell'illusione fiscale questo non è un problema nel problema dunque innanzitutto il piano prevede proprio come diceva Linda Sabatini l'assunzione di personale in enti territoriali nuovo per seguire queste nuove attività e contiene anche una serie di semplificazioni burocratiche che dovrebbero rendere più agevole prendere delle scelte e delle decisioni quindi è vero che c'è questa nostra brutta reputazione ma è anche vero che il piano cerca di dare una risposta sulla fiducia dipende anche da noi io continuo a ritenere che l'Italia non abbia una pessima amministrazione la nostra scuola non è pessima rispetto a quella degli altri paesi la nostra sanità non è pessima rispetto a quella degli altri paesi le nostre forze dell'ordine non sono pessime rispetto a quelle degli altri paesi è pessimo il nostro giudizio gli altri paesi non lo fanno non hanno questo giudizio io continuo a pensare che la nostra amministrazione sia migliore di quello che la gente pensi e mi auguro che la gente cominci a riconoscerlo piano piano proprio avvicinandosi perché è la realtà ma non pensate questo lo dico a tutte e due che anche in questo l'Italia è un paese di diversità cioè non è la stessa cosa l'amministrazione in una città come Trento faccio per dire piuttosto che in alcune grandi città ahimè devo dire spesso anche nel centro sud dove diciamo così la qualità dell'amministrazione il training non è dello stesso livello è chiaro che ci sono ottimi insegnanti anche nel sud ad esempio però spesso l'organizzazione dei servizi al cittadino che si trova a Ferrara non è la stessa però però diciamo gli italiani non si fidano nello stato allora diciamo la gente del meridione non si fida nello stato che già riduciamo il problema e magari interveniamo per migliorare le cose ma se diciamo che nessuno si fida nello stato abbiamo perso tutti questo lo dico perché noi anni fa abbiamo fatto un libro di Carlo Borgomeo che è il presidente della fondazione con il sud quindi è un napoletano meridionale come me molto impegnato che diceva il vero problema del sud non sono le risorse ma il capitale sociale cioè il problema della sfiducia come tu hai detto Enzo giustamente dei cittadini in se stessi questo mi porta a parlare delle donne perché forse uno dei problemi delle donne è che spesso le donne stesse non hanno abbastanza fiducia in se stesse però giro la questione direttamente a Lina e Laura se non è così mi smentisci va benissimo è un problema se solo questo il problema l'avremmo risolto no è vero c'è c'è questo problema però fosse solo questo sarei molto più ottimista nell'articolo nel saggio che io citavo del libro sul mondo della fine del mondo tu hai scritto che l'arrivo del covid tra le varie diseguaglianze ha inciso fortemente anche su quella di genere peggiorando la situazione femminile su tutti i fronti mentre qualche giorno fa su Repubblica in un articolo molto forte molto chiaro devo dire Lina Laura Sabadini dal mio punto di vista editora ha una scrittura fantastica perché è molto colloquiale ogni tanto interloquisce con lettori e dice hai capito stai capendo quello che scrivo quindi non ho nulla di paludato ma è molto diretto come lei come si vede come anche stasera insomma molto schietto in quell'articolo su Repubblica dici che le risorse messe a disposizione dal piano che sono diciamo di 4 miliardi circa mi sembra dedicate alla parità di genere non sono assolutamente sufficienti ecco ci spieghi le due cose in breve naturalmente come si aggrava le diseguaglianze e perché a fronte di questo le risorse non si sembrano sufficienti allora quello che è successo è che nel nostro paese è che nel momento in cui è arrivata l'epidemia quindi all'inizio del 2020 non è che noi fossimo in una situazione particolarmente positiva dal punto di vista per esempio dell'occupazione femminile noi faticosamente eravamo arrivati a un 50% di tasso d'occupazione femminile che è un livello molto basso il penultimo in Europa dietro noi c'era soltanto la Grescia e quindi in sostanza tutta la crisi che c'è stata dal 2007 al 2008 prima poi di nuovo il calo d'occupazione nel 2013 aveva portato come risultato a un recupero maggiore da un punto di vista quantitativo dell'occupazione femminile rispetto alla maschile che non ha ancora che non aveva ancora recuperato alla vigilia del covid e quindi è poi ulteriormente diminuita ma con a fianco un peggioramento anche della qualità del lavoro femminile è molto cresciuto il part time involontario ormai siamo arrivati al 66% le donne fanno part time che fanno part time involontario quindi assolutamente non voluto è cresciuta era cresciuta fino al 2019 anche la parte di lavori a tempo determinato era aumentata la segregazione all'interno del mercato del lavoro nel senso che erano aumentate diciamo la presenza di donne in professioni femminili tra virgolette seppure c'era stata dopo la crisi degli anni 90 dell'inizio degli anni 90 un forte ingresso delle donne all'interno di tutte le occupazioni e in particolare una riduzione di questo livello di segregazione questo fa sì che noi alla vigilia del covid non è che stavamo bene ci trovavamo in una situazione in cui le donne facevano fatica a poter lavorare un quinto delle donne interrompeva il lavoro alla nascita del figlio e complessivamente il fatto la presenza di un figlio creava un grosso ostacolo per lo sviluppo per l'accesso la permanenza e lo sviluppo delle carriere femminile tutto questo in un contesto in cui per decenni nessuno si è curato tranne in un momento molto piccolo ma più da un punto di vista normativo piuttosto che di investimento di risorse che è quello della fine degli anni 90 inizio 2000 nessuno si è curato di aggredire definitivamente un problema fondamentale che le donne italiane hanno e che è il grande sovraccarico di lavoro di cura che hanno sulle spalle all'interno delle famiglie di lavoro non retribuito mentre negli altri paesi nei paesi nordici su questo si era intervenuti fin dagli anni 60 man mano che cresceva l'ingresso delle donne nel mercato del lavoro mentre in paesi come la Francia eccetera su questo si è comunque investito la Germania basta pensare anche a quello che ha fatto la stessa van der Leyen in Germania nel nostro paese il nulla io sono andata a rivedere quando è stata fatta la prima legge di istituzione dei nidi pubblici eravamo nel 1971 sono passati 50 anni i nidi pubblici erano stati istituiti allora noi stiamo al 12% di bambini in 50 anni che sono iscritti ai nidi pubblici ora questo non è semplicemente una disattenzione è proprio che c'è una resistenza culturale pesantissima in questo paese a capire che tutto ciò che ha a che fare in investimento sulla riduzione della quota di lavoro non retribuito a favore e di una transizione di questa verso lavoro retribuito della cura deve essere fatta e non è mai stata fatta pensate alla legge 328 sull'assistenza che era stata varata nel 2000 e che non è mai stata applicata perché i livelli essenziali di assistenza che erano necessari come i livelli essenziali per la sanità non sono mai stati fatti e quindi noi siamo andati avanti con un welfare che si è basato completamente sul lavoro non retribuito delle donne e in particolare si è basato su questa catena di solidarietà femminile tra madri e nonne che ormai si è visto da anni che non poteva reggere più soprattutto in un'ottica di sostenibilità non era più sostenibile socialmente anche perché le cosiddette nonne che sono il pilastro della cura dei bambini ormai sono nonne che hanno tassi di occupazione più alti le uniche età in cui è cresciuto il tasso di occupazione in questi anni sono le 50 64 anni che hanno avuto una crescita enorme durante tutta la crisi per l'aumento della permanenza nel mercato del lavoro ma questo significa delle cose che queste nonne sono più occupate hanno meno tempo a disposizione per la cura quindi lavorano si fanno carico dei loro genitori anziani non autosufficienti e nello stesso tempo anche della cura dei propri nipoti quanto possono reggere certo non possono neanche dare le stesse ore di cura nei confronti dei propri cari che potevano dare prima quando erano casalinghe e quando avevano si potevano concentrare solo sui bambini o sugli anziani cioè in sostanza e ormai siamo arrivati ormai a un cortocircuito e quello che viene fuori è che ci perdono gli anziani ci perdono i bambini perché chiaramente i caregiver tradizionali del modello mediterraneo non ce la fanno più a dare il numero di ore di lavoro non retribuito che davano prima ma ci perdono le donne fortemente perché non ce la fanno a reggere sul mercato del lavoro senza adeguata infrastruttura sociale allora questo si lega benissimo a quello che dicevi sul recovery perché perché in quel recovery la priorità tra le priorità questo grande piano straordinario sulle infrastrutture sociali che siano essi nighi e che sia welfare di prossimità in particolare al servizio della cura di anziani dei disabili non parliamo dei disabili che qui c'è un processo di rimozione collettiva su quello che stanno vivendo le famiglie con disabili all'interno che stanno in una situazione terribile perché soprattutto poi i disabili con problemi mentali sono persone che hanno bisogno di interagire con l'esterno hanno passato questi mesi in grandi difficoltà ma in grandi difficoltà anche perché sui territori non si è investito abbastanza non si è investito abbastanza in infrastrutture sanitarie ma neanche in infrastrutture per l'assistenza quindi le due cose sono molto collegate quindi io dico ma se non cogliamo l'occasione di questo next generation per dare una spallata per fare un balzo su questa questione delle donne ma quando lo faremo mai più io mi ricordo che Emma Bonino quando si parlò dell'elevamento dell'età pensionabile propose una cosa molto importante lei disse va bene c'era chi molte donne erano contrarie che ci fosse l'elevamento dell'età pensionabile lei disse ma no accettiamo l'elevamento dell'età pensionabile però facciamo una cosa tutto il tesoretto che si ricava da questo che si libera per questo elevamento dell'età pensionabile facciamo in modo che sia investito sulle questioni cruciali sui nodi cruciali che impediscono alle donne di realizzarsi su tutti i piani ebbene non venne ascoltata e quello che è successo è che questo famoso tesoretto che si è liberato con l'elevamento dell'età pensionabile ovviamente è andato a finire nel calderone ma in questo modo non risolviamo un nodo cruciale perché parliamoci chiaro se noi ci troviamo che la metà del paese si ritrova esclusa e continua a esserlo perché oggettivamente non ce la può fare a essere inserita a inserirsi nel mercato del lavoro adeguatamente avere lo stesso parità salariale a non interrompere quando nascono i figli o a sviluppare carriera a inserirsi nei luoghi decisionali io dico solo una cosa o su questo next generation ci si investe e non con due miliardi sui nidi perché con due miliardi sui nidi non arriviamo neanche al livello del 33% di nidi che era richiesto per dieci anni fa dall'Europa neanche a quel livello solo per costruirli sul recovery avremmo bisogno di arrivare a 6 miliardi e 4 quindi bisogna rifare i conti hai avuto una serie di entusiastiche approvazioni Sveva Veduto dice bravissima speriamo che il messaggio arrivi nelle orecchie giuste adesso su questo vorrei fare una domanda a Enzo Cipolletta sulle orecchie giuste Rosana Lampugnani una giornalista brava che scrive sul Corriere il Mezzogiorno dice purtroppo quando proponiamo questi temi sacrosanti direttori dei giornali ci sentiamo dire che è la Agna Susanna Camusso dice tutte le nostre riforme sociali importanti sono degli anni settanta anche questo bisogna chiedersi perché giro la domanda ad Enzo ma perché queste orecchie giuste non ci sono perché non solo nella mondo della politica ma credo al mondo dell'impresa i maschi diciamo le cose che sono al governo pagano omaggio perché non ho mai sentito un manager un grande manager dire che i discorsi che ci ha appena fatto in Laura Saberini sono sbagliati ma poi le cose non cambiano mi sembra che questo piano presuppone una serie di miliardi sono pochi sicuramente come ha detto Linda però è sicuramente un primo inizio ed è importante che questa strada venga intrapresa le imprese hanno sempre paura a avanzare progetti di questo genere perché poi pensano che devono pagare tasse e contributi l'Italia fino a poco tempo fa aveva questa diciamo obbligo di ridurre il disavanzo pubblico e quindi non la spendeva in queste parti oggi si troviamo in una situazione completamente diversa quindi io trovo che sia molto giusto che il governo abbia approvato questa direzione non è sufficiente si tratta di aumentarla però non buttiamo a mare il bambino con l'acqua sporca perché comunque cominciamo a spendere questi soldi per riuscire a gestire a fare queste infrastrutture sociali che servono alle donne ma anche agli uomini perché a me fa sempre un po' impressione sentire e dire che non c'è un'infrastruttura sociale e questo è il motivo per cui le donne non lavorano ma se non c'è infrastruttura sociale non dovrebbero lavorare neanche gli uomini perché perché dobbiamo continuare a pensare che il carico familiare debba cadere solo sulle donne e non sugli uomini io penso che c'è bisogno anche lì di un cambiamento di atteggiamento e bisogna che in qualche misura i carichi familiari siano divisi fra uomo e donna forse se i carichi familiari fossero divisi fra uomo e donna allora la domanda di servizi e di infrastrutture sociali diventerebbe ancora più forte posso? sì certo certo no perché è vero quello che dici però è vero pure che noi siamo il paese d'Europa in cui c'è una divisione dei ruoli che è molto più asimmetrica degli altri cioè nel nostro paese il carico di lavoro familiare è sulle donne quindi è chiaro che se tu investi in infrastrutture sociali liberi noi abbiamo bisogno di una ridistribuzione del lavoro di cura nella coppia nella famiglia e nella società nella famiglia ovviamente attraverso tutta una serie di strumenti congedi eccetera su cui non mi soffermo nella società attraverso i servizi è chiaro che l'obiettivo è che quelli siano servizi al servizio di ambedue dell'uomo e della donna ma oggi la mancanza di quei servizi non penalizza gli uomini penalizza le donne se posso dire è molto divertente perché la vostra dialettica si riproduce in rete allora Susanna Camusso dice a Cipolletta questa dell'iniziamo anche se non basta la sentiamo da troppi anni quindi caro Enzo beccati questa Fiorella Costoris no questa dire Fiorella Costoris che è una economista molto brava dice bravo Enzo perché lei dice sopra una cosa interessante se me la riproponete dice sì esiste un problema oggettivo non sia Penelo poi fa riferimento per esempio alla differenza al gender gap dal punto di vista degli stipendi però dice servizi pubblici per la cura scrive Fiorella Costoris sono importanti ma ancora più importante è una distribuzione simmetrica tra maschi e femmine dei carichi familiari e ci vuole un cambiamento culturale che inizia dentro le famiglie questo mi sembra un punto fondamentale lo chiedo anche Laura Sabadini e Enzo e poi chiudiamo sono d'accordo con Fiorella la resistenza passiva degli uomini che peraltro non produce discorso pubblico perché non ho letto articoli o libri in cui siano uomini che contestano però dopodiché le cose non cambiano allora la resistenza degli uomini è che in realtà abbiamo un gap culturale perché gli uomini di potere in questo paese a tutti i livelli pensano che questo è l'unico modello possibile ed è un modello maschile dove magari le donne possono entrare se si uniformano a quel modello sei troppo tenero sei troppo tenero nel senso che sì ci saranno anche gli uomini che devono riconvertirsi da un punto di vista culturale e devono capirlo più profondamente in realtà c'è una profonda anche resistenza perché parliamoci chiaro qui è chiaro che è molto pomodo per un uomo avere una donna che si fa carico di tutto anche perché altrimenti deve proprio ridefinire complessivamente il suo modo di essere il suo modo di vivere il problema è che noi dobbiamo fare giustamente come dice Fiorella una grande battaglia culturale contro gli stereotipi culturali che esistono nel nostro paese che tra l'altro sono trasversali che colpiscono cioè in primis hanno gli uomini ma che hanno anche spesso le donne e questo spesso le può frenare anche nell'esprimere la loro forza e la loro potenza però un nodo fondamentale che dobbiamo assolutamente abbattere è questo cioè è quello di mettere in condizione ma come è avvenuto pure negli altri paesi noi non è possibile ormai siamo in fondo in fondo alle graduatorie siamo membri del G7 abbiamo un tasso d'occupazione femminile lo sapete tra 25 e 29 anni 7 punti sotto la Grecia a livello di media generale noi stiamo penultimi sulle giovani stiamo 7 punti sotto la Grecia tra 30 e 34 anni pure e poi ci interroghiamo perché il nostro paese sta in fondo alla graduatoria per livelli di fecondità non se fanno figlie se fanno tutti questi discorsi sull'egoismo imperante cioè noi siamo in una situazione folle che qui in questo paese solo se hai la laurea riesci a trovare un lavoro al sud solo se hai la laurea arrivi sopra il 50% se hai la licenza media stai al 20 al sud e ci sono più di 30 punti percentuali di differenza tra le donne del nord e del sud cioè è una situazione che non è solo di disuguaglianze di genere le disuguaglianze di genere attraversano anche tutte le altre ma è una situazione che va affrontata con molta forza e le cose che ci siamo detti qua non sono una in contrasto dell'altra devono essere messe in atto tutte insieme taglia per il cambiamento culturale che significa che significa cambiamento culturale a tutti i livelli all'interno nella divisione dei ruoli cambiamento culturale nei metodi educativi all'interno delle scuole cambiamento culturale per lo sviluppo STEM quindi questa è una cosa fondamentale da portare avanti grande piano di infrastrutture sociali secondo elemento che si deve combinare col primo cioè tutti gli elementi in questo momento noi abbiamo bisogno di mettere tutto a sistema non c'è una cosa che è prioritaria all'altra o si affronta con un'ottica di sistema la battaglia per l'uguaglianza di genere o non ce la faremo andremo avanti a passettini per cui io non so d'accordo con Cipolletta quando dice intanto accontentiamoci no non ci accontentiamo non ci si può accontentare perché questa è un'occasione d'oro questa è un'occasione d'oro per affrontare i nodi strategici allora su questa questione non si può pensare di mettere 4 miliardi bisogna rivedere la redistribuzione delle risorse e capire che forse qualche altro paese ha meno bisogno di noi ma noi su questi temi dobbiamo investire una volta per tutte allora prima intanto ti ringrazio della tua passione di cui abbiamo tutti bisogno la cosa è molto divertente e interessante è che c'è un dibattito in corso tra le persone che ci seguono Paola Pica del Corriere della Sera ha detto potremmo dare una decontribuzione potremmo fare una decontribuzione mi pare adesso sul lavoro delle donne per favorirlo mentre le dice la detassazione deconizzazione del lavoro femminile mettere più soldi in tasca alle donne però o lei dice che no non cambierebbe i rapporti della coppia ah sì dice non cambierebbe i rapporti nella coppia nella sua economia la decontribuzione altri rispondono che non è proprio così Katia Petrini dice a volte le leggi aiuto nel cambiamento culturale quindi tra le due cose c'è un rapporto Ida Linzalone dice le donne devono cambiare la cultura dei propri figli maschi quindi hanno una responsabilità nell'educazione della nuova generazione io mi scuso con tutti perché non posso leggere sono una marea di commenti ma questo vuol dire solo una cosa che presto di tornare a essere con noi Linda Laura perché secondo me è un argomento che evidentemente abbiamo soltanto potuto evocare però ne sono molto contento e credo che sia utile anche discutere in maniera aperta anche sulle cose su cui c'è di differenza di opinioni perché quando c'è una eccessiva compattezza io sono sempre preoccupato tutti dicono sì sì giusto giusto e poi le cose non cambiano vorrei chiedere a Enzo di dire un'ultima cosa su questo tema anche sull'importanza del dibattito pubblico perché credo che questa piccola cosa che facciamo come tante altre serve a questo all'illusione forse o alla convinzione che discutere le idee cambia gli interessi la percezione di interessi gli interessi ci sono il potere gli interessi economici ma le idee danno una forma a questi interessi o sbaglio ma a me sembra che sia stato un dibattito molto interessante proprio perché c'è stata una serie di interventi che io ho seguito fino a un certo punto perché non riesco a leggerli tutti dal distante però penso che ne possiamo fare il tesoro proprio per dare magari anche successivamente le risposte se Linda Laura è d'accordo poi possiamo girare queste domande e poi con calma ci rispondiamo un po' tutti quanti perché è un dibattito che vale la pena approfondire al di là delle battute che si possono fare e che sicuramente ha dei punti di grande interesse da tutte quelle cose che sono state dette bene io ringrazio Linda Laura Sabadini e ringrazio tutti quelli che ci hanno seguito e do appuntamento nel prossimo incontro avremo facciamo le vacanze lunedì 18 gennaio e poi con cadenza quindicinale ci incontreremo ogni volta affronteremo un tema e speriamo di avere un ospite così forte e così appassionato e così intelligente della realtà di cui parla come quello che abbiamo avuto stasera posso aggiungere anche che se coloro che ci seguono vogliono parlare di un tema ce lo vogliono suggerire ce lo possono scrivere ci farà piacere prendere un tema che magari è suggerito proprio da coloro che scordano bene grazie a tutti e alla prossima buone vacanze buoni auguri per un Natale speriamo anche l'anno prossimo migliore di quest'anno auguri